Quando passa così tanto tempo ti sembra così che non sia più possibile stare bene anche soltanto per qualche ora. Ora io voglio che sei felice. Io sono felice ma voglio esserlo di più. E quando siamo tutti quattro insieme stiamo benissimo. La dichiarazione di nullità di ben 47 matrimoni celebrati negli ultimi anni dal sedicente sacerdote. Ti arriva a casa un bustone giallo e scopri che tua moglie non è più tua moglie. La curia quindi ha previsto un evento collettivo in cui celebrare nuovamente tutti i matrimoni. Guarda che non sono mica più tuo marito. Davvero ci lasci così nella merda? Mi va? Amore pensavo che bisogna abbiamo noi di risposarci. Sono innamorato di un'altra donna. Ho tradito Viola. Sono incinta.